Abbiamo visto un bel po' di roba in realtà della collezione di Dario, abbiamo visto la prima gen che ovviamente sono le carte più iconiche in qualche modo, la seconda gen che forse sono ancora più iconiche, la seconda gen e mezzo, le promo, giustamente in maratona facemmo anche le promo ed è arrivato il momento di una gen che ha veramente tante luci e tante ombre, la terza generazione. Parte un po' debole ma poi tira fuori dei pezzi allucinanti, tira fuori delle espansioni tematiche, della lore, sono le prime espansioni nelle quali non c'è più di mezzo la Wizards of the Coast perché non le fu rinnovato il contratto di distribuzione dei Pokémon in occidente, quindi è tutto in mano alla Nintendo adesso. Questi set vanno a introdurre delle cose molto molto simpatiche e introducono anche alcune delle carte più rare e più costose che siano mai uscite in delle bustine insomma, in dei pacchetti. Allora questo è il primo set che chiaramente si chiama Rubino e Zaffiro, quello che diceva Fede è vero che sono partiti un po' piano, però c'è da dire che secondo me sono sempre partiti un po' piano, anche con il set base, perché il set base come abbiamo visto un po' di tempo fa aveva dei problemi, cioè aveva dei problemi grossi, c'era un artwork di Ken Sugimori di stock messi su uno sfondo neutro, poche carte con guizzi creativi perché non si sapeva bene cosa si stava facendo. Con Rubino e Zaffiro questa giustificazione non ce l'avevano più perché chiaramente il brand Pokémon era già partito come un treno, però sono tornati un po' indietro da quel punto di vista, cioè sono tornati all'artwork di stock di Ken Sugimori, basta vedere questo Gardevoir. Che adesso sono in digitale invece che ad Acquarello, perché dalla terza gen in poi Sugimori si è messo a disegnare gli stocconi in digitale e quindi diciamo che si perde anche un po' quel fascino che c'era, che ne so, in G-Miros. Un altro dei problemi proprio strutturali di questi set è che si imbarcavano terribilmente. Appena usciti dal pacchetto l'olografia, forse per la tipologia di carta un po' troppo leggera, non lo so perché, ma iniziava ad imbarcarsi appena uscito dal pacchetto, perché probabilmente non riusciva a trattenere l'olografia. Questa cosa poi esploderà con dei set sì leggendari, ma allo stesso tempo super imbarcosi come ad esempio Ex Deoxys raggiunge diciamo l'estremo. Le rette più alte, sì sì, uscivano direttamente così e oltretutto, vabbè, sulle reverse non ne parliamo, cioè sulle reverse ci sono imbarcature notevoli. Questo vuol dire imbarcate, ragazzi, questa cosa qua. Sì, sono curvi. Sono curve, però ragazzi questa cosa qua sappiate che non compromette la valutazione della carta, anche se l'ha mandata a gradare. Io ho sbustato carte, cioè ho spaccato PSA 9, che quando li spaccavo la carta iniziava a fare questo lavoro qua, si imbarcava, però era stata gradata a 9. Purtroppo l'olografia alle carte di terza gen fa questo brutto effetto, però messe nell'album non succede nulla, non sono rovinati le altre. Comunque anche qua, come sta facendo vedere Dario, ci sono degli artwork veramente notevoli, inframmezzati agli stocconi, perché insomma non possiamo privarcene, però ecco, come in ogni set base, perché questa infamata diciamo del set anonimo l'hanno fatto con ogni generazione, quindi anche adesso lo fanno, c'è il primo spada è scudo per dire e leghe inferiori rispetto agli ultimi set che stanno uscendo, perché forse lo vogliono fare più semplice in modo che attiri di più l'occhio, non lo so, oppure magari si tengono il budget tutto per la seconda metà dei blocchi, può essere. Poi c'è un altro problema secondo me di questo set, ovvero, anzi di tutta la terza generazione, ovvero che hanno sacrificato tantissimo l'artwork, cioè l'immagine, anzi il riquadro che contiene il disegno è più piccolo rispetto alle generazioni precedenti, quindi voi avete un artwork più stretto, questo a mio parere è un gran peccato. Ovviamente anche qui c'è il solito QR code che c'era nelle E-Series che hanno mantenuto anche qui, anche qua ci sono le reverse, ma ahimè hanno scelto un pessimo secondo me effetto a specchio, io non ce l'ho reverse chiaramente, molto opaco, che si graffiava solamente a vederlo, insomma a livello tecnico c'erano tantissimi problemi, però sì come diceva il buon Fede, come vedete ci sono anche degli artwork che ogni tanto venivano fuori, per esempio questo di Arita, è molto bello. Molto figo, sì, no, Arita come al solito sempre sui set base, invece dà il meglio di sé, tra l'altro piccola curiosità su quello Skitty là sopra, la traduzione italiana del primo attacco è lavoretto rapido, eccoci giusto, eccoci, come potete vedere ad esempio sul Mudkip eccetera, orrendo dai, ecco sì, quello stoccone digitale sullo sfondo non funziona più come funzionavano invece gli acquerelli un tempo, infatti per fortuna, questa usanza è stata pian piano abbandonata, nel corso degli anni hanno lasciato spazio a tanti artisti notevoli che vedremo, eccoci qua, arriviamo ai cazzi veramente, i cazzi, sì sì sì, un'altra delle novità di queste serie X sono le X, si chiamavano X, X Rubino e Zaffiro, X Hidden Legends, X Sandstorm, X Dragon, perché c'erano le carte X, che avevano un pull rate un po' scemotto, quant'era il pull rate? Allora, varia molto in base al numero di X che ci sono nel set, cioè se erano tante come in questo caso le trovavate una ogni 5-6 bustine, più o meno come adesso, in alcuni casi c'erano tipo 3 o 4 X solamente o tipo l'Arian Vaporeon e Jolteon, in quel caso ne trovavi una per box, quindi variava tantissimo. Diciamo che queste qui sono abbastanza brutte e... Fanno veramente schifo al cazzo, cioè bisogna veramente essere... No sì, non volevo essere corretto, però fanno cacare. A parte una Kate Monchan, che è molto carina, una roba un po' alla Terminator, vi faccio vedere, sono veramente orrende. Il problema delle X sono molteplici, a parte qui vabbè l'effetto imbarcato, ovviamente si spreca, però sono difficili da trovare, stronzissime da collezionare belle, perché si graffiavano solo a vederle, perché ovviamente il pattern olografico è su tutta la carta, e poi non si sa perché, per differenziarle dalle carte normali, per renderle più preziose, 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 si faceva il modello in CGI, ed è una cazzo di merda, perché se io... Ragazzi, guardate questo Sneezer, questo c'ha dei problemi grossi, eh? Mi chiedi, Riuweda forse, sì. Sì, Riuweda. Ma io vi voglio far vedere questo Mewtwo, ragazzi. Un pochino deforme, dai, mettiamola così. L'unica cosa bella è che vedevi il Cosmo Olo spalmato su tutta la carta, però era una benedizione... Sì, il bordo argentato, sì, sì. Era una benedizione e maledizione allo stesso tempo, perché si graffiavano tantissimo, e poi collezionare ragazzi in queste condizioni... Mamma mia, lasciamo perdere, guarda, non ci voglio pensare, brutti ricordi. Ecco, Sunstorm è già spanne sopra a Rubino e Zaffiro per me. Sì, innanzitutto perché c'è un tema, appunto c'è il tema desertico, c'è il tema dei terreni aridi, no? Quindi questo è molto interessante. E poi perché effettivamente abbiamo eliminato quasi totalmente gli stock, anzi non credo ci sia niente di stock, forse qualche stronzata non comune qua. Qua ci sono veramente carte molto belle, per esempio questo qua di Kusajima, questo sablie di Kusajima, che è veramente molto bello nella grotta, poi vabbè il Cosmo lo valorizza parecchio l'interno di questo. I cristalli, sì, sì, molto fighi il Cosmo, dell'Udicolo, di Comiglia, sì, vabbè, ovviamente. Se non nominiamo almeno una volta Video, Comiglia, non siamo contenti, però è uno dei grandi, sì, 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 assolutamente. Tra l'altro, piccola curiosità, molte di queste carte che voi vedete tra le rare non holo, in realtà in Giappone sono holografici. Non ti preoccupare, Federico. Ah, vabbè, scusa. Non ti preoccupare. Ecco, questa è una carta che volevo segnalare, sempre di Kusajima, ma è questo qua, questo Golduck che secondo me è veramente, veramente molto molto bello. Molto K, fighissimo, sì, sì. C'è veramente tanta roba interessante, quel vapore è un po' stranino, insomma. Sì, sì, sì. Ce lo teniamo. Diciamo che il mood è molto rispettato, quindi tornano appunto i set tematici, no? Vedete quella Cactus, Dune, comunque, ecco, qui ci sono alcune delle robe più clamorose di questi set, comunque. Questa, tra l'altro, una delle mie carte preferite di sempre è quella pagina. A me questa roba, in un arrazzo, mi ha sempre fatto impazzire di Arita. Perché dicevi quale in particolare? Questo firo qua di Kusube. Vabbè, Kusube, ragazzi, è un mio grande amore. Sì, sì, sì. Questa zoomata qua. È l'ombre di... Ah, quello depresso. È una cosa meravigliosa. Tra l'altro ricorda una frase di, credo, Mystery Dungeon, in cui c'è un ludicolo che non vorrebbe evolversi, sì, un lombra che non vorrebbe evolversi il ludicolo perché il ludicolo per lui è troppo allegro. Lui ha paura di essere festaiolo e quindi, non lo so, mi piaceva molto come associazione. Anche qua ci sono queste stronzate, cioè io vorrei capire chi ha approvato questa roba, per esempio. Cioè, il Sidot, gli stocchi di Sugimori con questo sfondo che spunta da un arro completamente sproporzionato, cioè è tutto veramente sbagliato. Io veramente non lo so. Però, per il resto, è un buon set e iniziano a vedersi delle cose che poi esploderanno, secondo me, nei set futuri. Per me non c'è ancora paragone con i series e compagnia cantante, ma nemmeno per sbaglio. È un passo indietro, per il momento è un passo indietro, però si rifaranno. Vedrete che ci sarà anche quello Slakot, Gesù mio. Questo Travis è molto bello però, eh? Quello è fighissimo, sì. Il Travis guarda la luna. Ok, ecco. Cioè, ragazzi, perché io mi devo incazzare veramente così tanto? Cioè, non è possibile una cosa del genere. Cioè, guardate questo Aerodactyl, ma poi da dove viene? Da un void spazio temporale. Guardatelo. Stranissimo. Come si fa a realizzare una roba del genere? Aiutatevi, per favore. E costano un boato queste merde. Accidenti a loro. L'unico un pochino è Wild Lord forse, che carino. Ecco, il Wild Lord è particolare perché per lunghissimo tempo è stato il Pokémon con più punti vitalità. Sì, più a capire assoluto. se non lo dice una volta al giorno, impazzisce, inizia di rusticare. Va detto, va detto, per forza. Oh, e qua già cominciamo a vedere, tra l'altro, sì, Golem, queste cose non si fanno? No, io, ecco, questo qui è il famoso Golem duce, che è, no, va detto, perché io non so chi, io ragazzi, veramente, ma non è possibile una cosa del genere, abbi pazienza. Però ci sono affezionato. Comunque mi sa che, vabbè, le Olo, sì, sì, vabbè. Qui c'è Ex-Dragon. 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 Mi raccomando, ragazzi, Ex-Dragon. Un'altra espansione per me da alcuni punti di vista clamorosa, da altri punti di vista migliorabile, però sicuramente abbiamo delle cose notevoli. Ah, tra l'altro c'è un Minun e Plazol che si completano. Cominciamo questa tradizione delle carte di Minun e Plazol che formano una sorta di puzzle o magari sono speculari. Dragon è particolarissimo. Questo è molto bello, sì, facciamolo vedere. Passa in mezzo allo svapo, sì, sì, no, partì. Allo svapo. Questo è uno dei miei preferiti, senza dubbio, sì, sì, è molto, molto figo. Poi ho un debole per quest'artista, Kusube, l'ho già detto prima. Però, vedi, sono tutti artwork molto, molto sacrificati, purtroppo all'interno... Dallo spazio, sì. Eh, sì, è proprio stretto lo spazio. Io non so perché ho deciso di fare questa roba, purtroppo. Anche questo grave è brutto, davvero. C'è Dratini e Dragonair della Kusube, però Dragonair no, perché è ex, quindi... No, vabbè, ma poi... possibilità di avere Dragonair della Kusube, che è peccato. Anche questo Snormut... Sì, sì, sì. No, ma ce ne sono di cose carine, ragazzi. Il problema è che... Questo Shappet qua, appunto, come diceva anche Fede... Zoomatissimo. Zoomatissimo, che appare... Cioè, cercavano di trovare delle soluzioni per farceli entrare questi Pokémon, però... Sono sacrificati, sì, è un peccato. Poi, ovviamente, abbiamo la Mori... La Mori, sì, sì, che è comunque qui... Ecco, nelle serie X, la Mori veramente... Non dico che ha dato il meglio di sé, perché comunque continua con un certo standard, però esplose. Ecco, prima era molto poco valorizzata, valorizzata, secondo me. Bella roba. E finalmente... Oh, allora, qua si bisogna fare anche un discorso più particolare. Ecco, questo è il Dragonite X, anche questo molto nostalgico, come vediamo. Qui veramente ci sono delle carte che ho veramente fatto fatica a recuperare a prezzi umani, perché c'è Dragonite, perché c'è Rai Quasa, il primo leggendario, tra l'altro. Latios e Latias, chiaramente, che sono stronzissimi. Insomma, è stato veramente difficile, ma sono tutti orrendi. Orrendi, orrendi. Però ci sono le prime tre fuoriserie. Però... Sì, ci sono le prime tre fuoriserie. Quali fuoriserie potevano essere? Tanto guardate Rai Quasa con evidenti problemi neuronali, perché non si può... Vabbè, lasciamo perdere, va. E le prime tre fuoriserie potevano essere solo Charmander, Charmian e Charizard, che, come vi abbiamo fatto vedere nell'album delle promo, sono state anche stampate per dei tornei con un marchietto qui e che chiaramente acquisiscono ancora più valore. A me piacciono, in generale, questa linea ultima. Molto. Ti dirò, quello è uno dei miei Charizard preferiti, addirittura. Ok. Sì, anche questo molto sacrificato, molto compatto. Faccio vedere le altre X perché meritano, eh, ragazzi? Per i motivi sbagliati, ma meritano. Meritano, esatto, sì, sì. La forca, però comunque... Allora, questi, ragazzi, sono delle cose un po' particolari. Questi qua sono i mazzi dei film. Praticamente, quando usciva un film, in questo caso, se non era il film di Jirashi, facevano uscire un mazzo con artwork totalmente esclusivi. Ma ve l'avevo fatto vedere già con Latios e Latias, c'era il mazzo di alto mare. Ecco, stesso discorso. E vedevi delle scene o dei Pokémon che diventavano iconici all'interno del film. Insomma, c'è Jirashi Cosmolo, ci sono degli oggetti, degli item, dei trainer esclusivi. Esclusivi. Come questi due. Ok, andiamo avanti con... Andiamo avanti, andiamo avanti. ...il set più brutto. Più bello della storia. Per me, il set più brutto in assoluto mai fatto sulla faccia della Terra. che bellezza. Io non so... No, no, raga, qui veramente siamo... No, io non ce la faccio, eh, raga. Questo è l'unico set che ho fatto in italiano. Sapete perché, cari amici? Partiamo dal nome. Il set è Ex Team Hydro e Ex Team Magma. Quindi era il grande set dedicato ai team malvagi. Quindi uno si aspetta magari un set alla Team Rocket, un set... No. Solamente modelli 3D di merda, orrendi, disegnati, cioè disegnati, realizzati, modellati in una maniera orripilante. Composti male anche. Composti malissimo. Cioè, imbarazzanti, imbarazzanti. Imbarazzanti, sembravano bravi, quasi fake, ma il set americano aveva un'aggiunta in più. Cioè, aveva, come vedete, qui ci sono i bordi spessi per il QR code. Qua, invece, siamo andati un passo oltre. Nel set americano ci sono alcune carte con il bordone e alcune carte con il bordo normale. Allora, io l'ho fatto in italiano perché aveva una coerenza. c'è le carte italiane e poi dal set successivo hanno proprio tolto il bordone. L'hanno eliminati, sì, sì, sì. Quindi ho deciso di fare questa roba qua. Però, ragazzi, io vi faccio vedere solo degli esempi. Guarda, è bravo, esatto, gli stavo consigliando proprio quella. Dicevo, vediamone una, vediamo Raidon come esempio proprio di bellezza, di sobrietà, di buon gusto e di dignità. Ma ve li faccio vedere tutti perché se no non ci credete pensate che esageri. guardate, guardate, guardate. Di quelle lì io ne salvo una sola, vagamente. Qual è? A un doom, leggermente. Bah. E poi nel mezzo a questa roba qui gli americani hanno pensato bene di metterci delle promo meiji, cioè delle promo che si trovavano nelle cioccolatine, nei biscotti al cioccolato in Giappone. Le hanno stampate dentro a questo set e non c'entrano una sega perché sono artwork di stock di Sugimori. Ecco, immaginate ovviamente cose che poteva fare Pandan con la pessima computer grafica, gli stocconi brutti. Sì, 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 sì. Guarda, Raishu, qui c'è Raishu di Sugimori senza senso, qua nel mezzo. C'è Timitro, Crowdant, Timitro, Maiena, sia Leo, tutti e poi c'è Raishu, così. Raishu così, a cazzo, sì, sì, sì. Ma poi tra l'altro non si capisce perché, perché in realtà c'è di riempitivi non c'era bisogno in questo set perché comunque è un set grande, non è che stiamo parlando di fossil. Guarda, guarda. Buttati lì a capocchia. Perché? Ma poi guardate questo Raioni che condizioni è, ragazzi. No, vabbè, anche MyTN hanno tutti quei peli orribili, renderizzati male, cioè, non lo so, non lo so. Ma non lo so, nemmeno io, guarda. Non si spiega, è qualcosa di veramente micidiale. E ovviamente anche qua ci sono gli ex perché se no, e raga, non si va da nessuno. Ah, invece ce l'avevo, guarda. Ah, sì, ecco perché l'avevo messi qui. E te lo stavo per dire. Ecco, ecco, ecco. E ovviamente chi cazzo c'è all'interno di questo set? Sikun, Entei e Raiku. Chiaramente tre leggendari così per ridere. Ex valgono un botto accidenti a loro. Vabbè, lasciamo perdere. Tra l'altro sui non devo dire che non è male, ecco, è forse più carino rispetto alla me. Sì, sì, vero, confermo. Ripresso, ecco. Sì, ma guarda Chef Type. Madonna, sì, vabbè, stavo per dire cose brutte, però insomma veramente, veramente terrificante. Sì, ho capito se volevi dire. Vabbè, comunque poi ci sono due foriserie e poi infine ci sono le Olo che diceva Federico. Che da noi sono in Sunstorm, non Olo, invece da loro davano un pochino di varietà a Team Magma, tra l'altro cose insensatissime perché in mezzo a quelle cose in computer grafica ci ficcavano ste robe rando. Vabbè. Absol è bello ma perché anche Cirash è bello, ma Absol perché è fuoriserie. Chissà dove l'hanno preso, mi sa che non era... No, non veniva da qui. Mi sa che veniva da un'altra parte, facciamolo un casino. Questo, oddio, questo era un gift, era un... Gift set. Sì, un gift box di Latios e Latias dove erano tutte ristampe tranne Latios e Latias X e quindi ho preso perché... Sono disegnati leggermente diversi, sì, con questa posizione così un po' fallica. Ecco qua, sì. Queste erano le uniche carte esclusive. Questo Latios X che non è mai uscito in occidente e questo Latias. Quindi l'ho recuperato perché comunque c'erano queste carte che non si potevano trovare da nessun'altra parte. Questo è l'ultimo album, ragazzi, cioè scusate, questo è il primo album della terza generazione che si conclude qua perché da questo set, da Team Hydro e Team Magma si abbandona finalmente il bannerone col QR Code e soprattutto si introduce non più la reverse a specchio ma si introduce la reverse sull'artwork cioè un tipo di olografia diversa per ogni set che però andava a alternare l'artwork non il layout a specchio con un tempo e quindi si cambia album ma ne riparleremo la prossima volta. Comunque per tirare le somme l'inizio di questa terza generazione non è stato poi così un po' zoppicante poche cose memorabili a parte rare eccezioni le ex bruttine una novità sì interessante perché aggiungeva un nuovo tipo di rarità però erano veramente stronzi da trovare difficili da mantenere in buone condizioni e soprattutto difficile da trovare un'ex bella questa cosa cambierà leggermente più avanti e soprattutto cambierà quando si inizierà a inserire addirittura una lorra all'interno di uno più set mamma mia lasciamo stare lì veramente ci sarebbe da fare una cosa a parte perché eh la faremo la faremo senza problemi ci sarà perché lì c'è da raccontare tanto tantissimo peccato per questa terza generazione amatissima da quelli che ci sono cresciuti insieme apprezzata e non apprezzata dai nostalgici o comunque da quelli che hanno iniziato con Pokémon Rosso e Giallo e vabbè Pokémon Rosso Blu e Giallo in Occidente e anche le carte hanno risposto un po' a questa terza generazione cioè qualcosa di indefinito qualcosa che non aveva ancora la propria identità ma che la ritroverà poi più avanti ringrazio ovviamente Fede Federico Lezidemasi che trovate sulla pagina Castle of Cards su Facebook e su Instagram chiaramente dove posto sempre tante cose interessanti info e robe da fissati di artwork e niente ci vediamo al prossimo album che si partirà con i The Legends che è un set che appunto secondo me inizia a raccontare una storia ciao ragazzi buona serata ciao bello ciao grazie ciao ciao